Qui con l'ex di giornata Gianni Enrico Boni dopo la vittoria esterna qui a Poggi Bonzi. Sensazioni sul tuo ritorno qui a Poggi Bonzi? Vabbè, sicuramente emozioni importanti perché sono stati anni che mi hanno reale fondamentalmente qui e è sempre bello tornare dove siamo stati, dove sono stati bene e ripeto, sensazioni e emozioni importanti. Un commento su questa vettoria importante che ci porta a meno 4 dal foro nel Capo Orrano e quindi possiamo ancora continuare a scegliere l'obiettivo. Sì, oggi era fondamentale portare a casa dei punti e rimanere in corsa con quelli sopra perché sennò sarebbe stato troppo difficile poi recuperare. Siamo venuti in un campo molto difficile, una squadra ben messa in campo e nonostante la partita servisse a nostro favore ci hanno messo in difficoltà e siamo stati bravi comunque a portarla in fondo e vincerla. Un commento sulla sua ex squadra, il Poggi Bonzi, che oggi ha fatto una buonissima partita e forse ti meritava anche qualcosa di più. Vabbè, sicuramente, poi visto dal campo è sempre diverso, però so che è una squadra che ci ha messo in difficoltà tanto rispetto a tutte le altre squadre che avevamo incontrato fino ad ora con il nuovo mistero e ha giocato molto bene, ci ha messo in difficoltà sia su molto sui acci riazzati però siamo stati bravi a portarla in fondo. Grazie Gianni. Grazie a voi.